Ciao a tutti, in questo video parliamo ancora di goniometria, in particolare parliamo di un aspetto interessante che sono gli angoli associati, quelli che ho scritto qui nel titolo di questa lezione. Useremo un po' questa lavagna e un po' geogebra, quindi per vedere un po' come si comportano i vari angoli dal punto di vista delle funzioni, seno, coseno e tangente, e inizio col dirvi che noi chiameremo angoli associati quegli angoli che, adesso prima di seno, di coseno, di tangente, che sono uguali oppure opposti. Per dirlo in un altro modo, un po' più chiaro forse, se io considero due angoli, alfa e beta, ok, due angoli diversi, ovviamente sono direi alfa e alfa, due angoli alfa e beta, se osservo questi angoli e mi accorgo che, per esempio, il seno di alfa è uguale al seno di beta, oppure scopro che il seno di alfa è uguale a meno il seno di beta, o magari è ancora un'altra relazione, scopro che il seno di alfa è uguale al coseno di beta, cioè se riesco a trovare una di queste relazioni interessanti, qua ho fatto alcuni esempi, ma generalmente sono i casi principali che capitano, se riesco a trovare una relazione interessante fra le funzioni goniometriche seno e o coseno e o tangente di a e b, di alfa e beta chiamerò alfa e beta angoli associati. Vediamo un po' più nel dettaglio questa cosa che sto dicendo. Per farlo passo a proiettare il foglio di GeoGebra che ho preparato per questa spiegazione, eccolo qui, fatemelo prendere, appena riesco a prenderlo, ci sono, dovrei esserci, ok, ho qui questo foglio di GeoGebra che vedete, allora in questo foglio, quello che ho fatto anche nella lezione precedente, in un paio di lezioni precedenti, io posso rappresentare diversi angoli, diversi angoli, al variare del valore di alfa, vedremo come si comportano le funzioni seno, così noi tangente, vedete che al variare dell'angolo variano tutte e due, e qua in particolare sulla sinistra ci sono dei riquadri che useremo oggi per vedere un po' cosa significa angoli associati, quali angoli possono essere considerati associati. Inizio col farvi vedere cosa succede in questo angolo preso abbastanza a caso, 36 gradi nel primo quadrante. Cosa succede se io vado, sposto un pochino il tutto così, va bene anche prima, cosa succede se io mi chiedo per esempio quale altro angolo in questa circonferenza ha lo stesso valore del seno di questo angolo alfa? Allora il seno è questo segmento rosso, perfetto, posso vederlo come la coordinata y del punto b, questo è chiamato yb. Qual è un altro angolo che ha lo stesso valore del seno? Beh, evidentemente sarà un angolo che sta da questa parte, ok, fatto in questo modo, alla stessa altezza del punto b. Allora cerco di disegnarlo questo angolo, qua ho la spunta che fa per me, 180 meno alfa, lo vedete, se questo è l'angolo alfa, l'angolo che si trova dalla parte opposta sarà l'angolo che ottengo facendo 180 gradi o pi greco e poi salgo, torno su, dello stesso angolo alfa. Lo disegno, questo angolo qui, e quando lo disegno si vede, insomma, si vede benissimo che il punto b, si chiama b secondo in questo caso, è proprio alla stessa altezza di b. Allora il seno che si ha per l'angolo alfa, questo qui, si vede benissimo, è identico al seno dell'angolo beta. Beta è questo angolo che ho colorato qui, se alfa valeva 36 gradi, questo beta varrà 144. Però vedete che anche se io vado a cambiare l'angolo alfa, insomma, lo modifico un attimo, se considero l'angolo che è 180 meno alfa, questo angolo significa supplementare, cioè l'angolo beta è supplementare di alfa, scopro, senza troppa difficoltà, che il seno di beta è uguale al seno di alfa. E siccome beta è 180 meno alfa, posso dire che il seno di 180 meno alfa è uguale al seno di alfa. Cos'è che accade invece per il coseno? Ricordiamoci sempre che questa figura è perfettamente simmetrica, la vediamo, questo triangolo che si costruisce è proprio simmetrico di quello che sta di qua a sinistra. L'altezza è la stessa, il seno è lo stesso che abbiamo appena detto, l'ipotenusa sarà ovviamente uguale perché è il raggio, sarà uguale anche il cateto di base, per cui il coseno di alfa, questa volta non è uguale al coseno di beta, perché anche se è lungo uguale si trova dalla parte opposta, per cui dirò che il coseno di alfa è uguale a meno il coseno di beta, o se preferite il coseno di 180 meno alfa è uguale a meno il coseno di alfa. Questo per quanto riguarda il seno e il coseno. Se estendo il concetto anche alla tangente sui quando l'ho rappresentata, ma quale sarà la tangente di questo angolo beta che ho fatto qui? Dovrei prolungare se il lato dell'angolo è il raggio dalla parte opposta e penso sia abbastanza ovvio, senza doverlo dire troppe volte, insomma, che il segmento che si formerà da questa parte sarà uguale opposto a quello sopra, per cui sarà anche vero che la tangente di 180 meno alfa è meno la tangente di alfa. E lo posso verificare perché facendo seno fratto coseno, se il seno rimane uguale e il coseno cambia segno, ovviamente anche la tangente cambia segno. Tutte queste cose che sto dicendo, che vi sto facendo vedere, poi le riscriverò sulla lavagna quando torniamo a scrivere sulla lavagna. Questo è quello che succede per gli angoli supplementari, cioè quelli che sommati fra loro fanno 180, se preferite, dato un angolo, il supplementare è 180 meno alfa. Seni uguali, coseni opposti, tangenti opposte. Un altro angolo interessante da guardare adesso, oltre a questo qui di 180 meno alfa, è cosa succede quando invece io considero l'angolo che si trova simmetrico rispetto a B, simmetrico di B, scusate, rispetto all'origine, cioè costruisco l'angolo, prendendo questo punto, dalla parte opposta dell'origine. Cosa significa questo? Che io ho percorso un angolo fino a B, l'angolo alfa, e proseguo di un altro mezzo giro fino a qua, cioè percorro l'arco che si chiama 180 più alfa. Anche qui lo vedete, se alfa era 43, qui beta diventa 223, cioè 180 più 43. Ottengo questo punto B, penso che ve l'ho chiamato B' se ci vedo bene, e questo punto B' è insimmetrico di B rispetto all'origine. Se qui non ho evidenziato il coseno perché evidentemente me lo sono dimenticato, però si vede che il segmento è lo stesso. Cos'è che osserviamo in questo disegno? Beh, intanto notiamo che anche qui la figura che si forma è simmetrica, perché questo angolo che si trova qui, che è alfa, magari prendo il puntatore per farlo vedere meglio, questo angolo qui è identico a questo angolo qui, perché sono opposti al vertice, si vede benissimo, no? Per cui sono due triangoli rettangoli, con in più un angolo congruente, l'oltreculo retto e l'ipotenusa in comune, sono triangoli congruenti questi. Per cui anche qui sarà vero che la lunghezza di questo segmento rosso è uguale alla lunghezza di questo segmento rosso, e la lunghezza di questo segmento blu sarà uguale alla lunghezza del segmento blu, che qua non si vede, che rappresenta il coseno. Per cui quando io mi trovo davanti a un angolo che è 180 più alfa, trovo evidente che il seno di alfa sarà uguale a meno il seno che c'è dall'altra parte, o se preferite, il seno di 180 più alfa sarà uguale a meno seno di alfa, il coseno di 180 più alfa sarà uguale a meno coseno di alfa. E la tangente, la vediamo, basterà prolungare questo lato in su, è perfettamente uguale, quindi la tangente risulta essere identica. Ed è ovvio perché se io cambio i segni di seno e di coseno di entrambi, quando faccio il rapporto il valore non cambia, ovviamente. Questo per quanto riguarda gli angoli di 180 più alfa. Diventa interessante adesso vedere cosa succede quando consideriamo l'angolo invece simmetrico a B, cioè l'angolo con il punto B simmetrico a B rispetto all'asse X, cioè l'angolo che sta qua sotto, ed è questo angolo qui. È l'angolo di 360 meno alfa, cioè ho percorso tutto il giro e poi torno in giù di un angolo alfa. Anche qui vedete se io modifico l'angolo alfa, posso anche andare nel secondo quadrante e non cambia niente, non si modifico l'angolo alfa, si modifica anche l'angolo 360 meno alfa. In questo caso se considero un angolo di 40 gradi, l'altro sarà 320 gradi, ovviamente. E vado un po' più veloce adesso perché avete capito un po' il ragionamento che sto facendo. Anche qui avrò due triangoli congruenti, come sempre, per cui questo segmento qua è uguale a questo, ma cambia segno. Per cui se faccio l'angolo esplementare, si dice, quello che sommato l'angolo di partenza fa 360, abbiamo che i seni sono opposti e i coseni sono uguali. Quando faccio le tangenti, allora anche qua vedremo che la tangente sarà una opposta all'altra, proprio perché cambia segno solo uno dei due, solo il seno in questo caso. L'ultima spunta che ho messo qua da farvi vedere, non è in realtà l'ultimo angolo associato, ma è l'ultimo che vi faccio vedere adesso, e cosa succede quando consideriamo un angolo complementare. Se io parto da alfa, in questo caso 40, lo rimpicciolisco un po' per far vedere meglio quello che succede, prendo 25 gradi. E vado a disegnare adesso il suo complementare, sta qui, eccolo qui. Ecco che cosa scopro? Che anche in questo caso ho dei triangoli congruenti perché se questo angolo è il complementare vuol dire che questo angolo qui è congruente a questo, lo vedete perché 25 è 25. E in questi due triangoli congruenti fra loro cos'è che succede? Che questa volta non è vero che il seno di alfa è uguale al seno dell'altro angolo. Sono diversi, è più grande questo qui evidentemente. Ma quello che sarebbe da questa parte, ma è più bello vederlo qua, insomma. Cosa che si osserva? Che il seno di alfa è congruente al coseno di 90 meno alfa. E il coseno di alfa è uguale al seno di 90 meno alfa. Quindi quando vado a trattare i complementari scopro che seno e coseno sono invertiti, quindi seno di uno è uguale al coseno dell'altro. Se al posto di fare un angolo complementare come ho fatto adesso, avessi fatto per esempio qui 270 meno alfa, quindi un triangolo fatto in questo modo, qui così, avrò trovato ancora seno e coseno uguali, ma stavolta avrei detto che il seno è l'opposto del seno di questo angolo, cioè il coseno di questo angolo è l'opposto del seno di questo e il seno di questo angolo è l'opposto del coseno di questo. Quindi quando vado a giocare non basandomi sull'asse x, come ho fatto fino adesso nei primi tre casi, ma sull'asse y, devo stare attento perché seno e coseno si scambiano di ruolo. Ok, questo è quello che voglio farvi vedere su GeoGebra. Adesso queste cose che ho detto le riscriviamo sulla lavagna con un po' più di ordine, così anche voi quando siete davanti ad un esercizio o una domanda, se siete capaci di ricostruire mentalmente o sulla carta questa circonferenza, diventa tutto molto più semplice, insomma, no? Per cui io torno di là, adesso, vediamo se riesco a tornare senza fare troppi danni, dovrei essere tornato sulla lavagna adesso. Ok, cancelliamo quello che ho scritto prima perché non mi interessa più questa premessa. E cosa faccio con voi adesso? Faccio un disegno molto amatoriale, insomma, lo faccio come lo farebbe chiunque sul suo quaderno senza preoccuparsi troppo della forma. Disegno qui una bella circonferenza, disegno gli assi cartesiani, non preoccupatevi se fa schifo, tanto lo scopo è che non sia perfetto, insomma, e comincio a riscrivere quello che ho detto prima. Allora, prendo un angolo di riferimento, lo faccio col rosso, questo qui, alfa, ok? Un po' più piccolino, sennò qualcuno di complementare mi incasino. Lo prendo così, magari, eccolo qua, questo è alfa, d'accordo? Punto B, punto O di origine e punto H, questo qui. E cosa scrivo? Allora, ragionando come ho fatto prima, dico che se considero per esempio i supplementari, dirò che il seno di 180 meno alfa è uguale al seno di alfa, dirò che il coseno di 180 meno alfa è uguale a meno il coseno di alfa e quindi come conseguenza che la tangente di 180 meno alfa è uguale a meno la tangente di alfa. Che cosa me ne faccio di questa scrittura che ho scritto adesso con un po' più di ordine rispetto a prima? Semplicemente significa che se io so calcolare i valori del seno e del coseno, o me li ricordo, li vedo sulla tabella, insomma, se conosco i valori del seno e del coseno nel primo quadrante, io li posso riportare agevolmente in tutti gli altri tre quadranti. Per cui, se io conosco quanto vale seno e coseno alla tangente di un angolo alfa, so automaticamente quanto vale seno e coseno alla tangente del complementare, del supplementare, di quello che è di 180, di quello che è sommato da 270, di quello che è sommato da 360, insomma so tutto. Posso calcolare tutti gli angoli equivalenti, anzi associati, negli altri quadranti. Ora questa è la prima regola che ho scritto, si rifà a questo angolo qui, a quello che si costruisce da questa parte alla stessa altezza con questo angolo, perfetto, e andando avanti farò la stessa cosa con gli altri angoli che ho visto. Quindi questo è il primo esempio che vi ho scritto adesso. Un'altra cosa che posso scrivere qua sotto è che per esempio il seno di 180 più alfa invece, quindi poi facciamo coseno di 180 più alfa e tangente di 180 più alfa, che cosa è? Allora ricordiamoci il disegno sarà questo qua sotto, fatto in questo modo, per cui io scopro che il seno è l'opposto, quindi meno seno di alfa, il coseno continua a essere l'opposto, meno cosalfa, e la tangente invece rimane uguale tangente di alfa. Questo angolo è questo qui, dicevo prima, per cui è evidente che insomma che il suo seno e il suo coseno sono uguale a quello di prima, ma cambiate il disegno e la tangente per forza sarà congruente. Faccio la stessa cosa con un'altra coppia di angoli, lo scrivo qua stavolta sulla sinistra, lo metto di qui. Scopro per esempio che se considero come angoli associati adesso quegli angoli che sono 360 meno alfa, coseno di 360 meno alfa, tangente di 360 meno alfa, e approfitto di questo punto per dire una cosa che non ho letto prima, cioè ho scelto il 360 adesso e i 180 eccetera perché con il algebra è proprio più comodo usare i gradi. Non cambia niente ovviamente se ci sono i radianti, quindi se lavoriamo con i radianti sarà 2π meno alfa. E notate un'altra cosa, voi vi ricordate che la funzione seno, coseno, e anche tangente si ripetono uguali dopo un angolo giro, dopo 360 2π, per cui parlare di seno di 360 meno alfa è proprio la stessa cosa che dire seno di meno alfa, ok? Coseno di meno alfa e tangente di meno alfa, sono la stessa cosa. E l'angolo che sta qua sotto dopo lo disegno mi fa vedere che il seno è opposto, meno seno alfa, il coseno è uguale, non è opposto perché è proprio lo stesso segmento, addirittura sovrapposto, e la tangente sarà invece meno tangente di alfa. Quindi l'angolo è questo qui, quello che ho fatto qua sotto, e si vede che insomma sono uguali, vuol dire, il seno è opposto al seno dell'altro angolo, il coseno è uguale e la tangente è opposta. L'ultimo angolo che faccio vedere adesso, ma poi insomma verrà lo stesso anche per angoli simili a questo, è l'angolo complementare, quindi quello che faccio così adesso, ok? Quindi questo qua sarà l'angolo beta, se però lo cancello perché se no poi dopo non riesco a cancellarlo dopo. Cos'è che mi ricordo di questo angolo qui? Mi ricordo che il seno di 90 meno alfa, cioè complementare, il coseno di 90 meno alfa e la tangente di 90 meno alfa sono uguali a che cosa? Allora, per quanto riguarda il seno questo sarà uguale al coseno di alfa, per quanto riguarda il coseno questo sarà uguale al seno di alfa, e per quanto riguarda la tangente, cosa succede qua con la tangente? Beh, se il seno diventa il coseno e il coseno diventa il seno, la tangente di 90 meno alfa la posso vedere come seno di 90 meno alfa su coseno di 90 meno alfa, e cioè coseno di alfa su seno di alfa, e quindi di fatto 1 fratto tangente di alfa, cioè questo rapporto, la tangente di 90 meno alfa è 1 fratto la tangente di alfa. L'angolo dicevo era questo qui, che ho fatto poco fa, e è evidente che se io posso di questo, vado a considerare adesso un angolo magari che non è più 90 meno alfa, ma che è 90 più alfa, quindi fatto da questa parte, l'angolo che dista 90 gradi, sarà vero ancora che cosa? Beh, sarà vero, vediamo, che il seno di questo angolo, quindi questo qui, dov'è che è il puntatore, questo seno qui sarà uguale stavolta a meno al coseno, perché va dall'altra parte, noi siamo in negativo, mentre il coseno continua ad essere uguale a più seno. Cioè il gioco è, anche se io non vi ho scritto adesso tutti i rapporti fra tutti i possibili angoli associati che io posso immaginare, il gioco è, cercate di rappresentare la sua circonferenza, dove sta quell'angolo interessante, che sia 90 meno alfa, 90 più alfa, 270 più alfa, o meno alfa, eccetera, e ragionate in termini i triangoli su quali sono i segmenti congruenti fra loro. In questo modo scoprite quali sono i legami tra le varie funzioni goniometriche. Vi faccio un esempio adesso numerico di tutto questo, per vedere una possibile applicazione di quello che abbiamo appena detto, e per esempio facciamo che io vi chiedo quanto vale il seno di 150 gradi. Non l'abbiamo messo nella tabella l'altra volta quando abbiamo costruito la funzione seno, però se adesso io vi chiedo quanto vale il seno di 150 gradi, potete appoggiarvi alla circonferenza goniometrica e dire 150 gradi è un po' più piccolo di 180, lo riconosco come il seno di 180 meno 30. Ok? 150 è 180 meno 30. Siamo ora nel caso di 180 meno alfa, cioè nei supplementari, e so che il seno di 180 meno alfa è uguale al seno di alfa, per cui questa cosa qua è uguale al seno di 30. E se in 30, ci ricordiamo quanto faceva, faceva un mezzo. Per cui il seno di 150, anche se io non lo conoscevo, ho scoperto adesso che è uguale a un mezzo se in 30. Quindi posso sfruttare queste relazioni per calcolare quei segni, quei cosigni degli angoli che non conosco ancora, oppure per mettere in relazione fra loro segni e cosigni di angoli diversi. Questa cosa verrà magari più utile più avanti quando faremo espressioni o ancora di più equazioni goniometriche. E per finire, un'ultima cosa che vi voglio dire è questa, che se ripensiamo al grafico delle funzioni goniometriche, lo faccio per il seno, ma vale poi per tutti, ovviamente, se ripensiamo al grafico delle funzioni goniometriche che abbiamo visto l'altra volta, magari facciamolo dritto, ma però sulla riga se no non mi piace. Se ripensiamo questo grafico, qui è il suo disegno grafico della funzione goniometrica seno in qualche modo, che prendo come riferimenti pi greco mezzi, pi greco, tre mezzi pi greco, due pi greco, faccio la curva, in qualche modo non sarà bellissima, voi tanto spero che non vi arrabbierete per questa non bellissima curva, la continuo anche dopo il due pi greco e anche prima dello zero, dovrebbe essere una cosa del genere, ok? Allora, è evidente quello che ho scritto sopra, cioè è evidente in questo grafico che, per esempio, prendo ancora questo, il seno di 180 meno alfa è uguale al seno di alfa, perché? Prendiamo un angolo qualsiasi, se lo prendo qui, non mi importa quant'è, questo è alfa, ok? E lui ha un certo seno, questo qui. È evidente che se io traccio la retta orizzontale passante per questo punto, così, dov'è che la funzione interseca, dov'è che questa linea interseca la funzione seno? La interseca è in questo punto qui, che guarda un po', dove aspetta, guarda un po', dista da 180, questo è 180, dista la stessa distanza che alfa dista da zero, cioè quindi questo qua è 180 meno alfa, lo vedete, no? Perché se questa distanza qui è alfa, anche questa distanza qui è alfa, è simmetrica alla funzione seno, per cui è vero che i due segni sono uguali. E qual è che poi torna ad essere ancora uguali? Beh, non più, cioè mai più nell'angolo giro, nel primo angolo giro, ma torna ad essere uguale dove l'altro valore, qui, se questo è 360, ha 360 più alfa. E se considero invece, voglio sapere quali sono gli angoli che hanno seno opposto, mi dovrei mettere dal di sotto, fare la stessa cosa, e scoprire che io trovo il primo valore dell'angolo opposto a 180 più alfa. Quindi anche questo disegno qui, questa funzione, il grafico della funzione seno, mi aiuta a confermare quali sono le relazioni fra angoli e i suoi angoli associati, tra un angolo e il suo angolo associato. Quindi, per chiudere, e così vi posso salutare, noi chiamiamo angoli associati quegli angoli che possono essere messi in relazione fra loro, perché hanno funzioni goniometriche simili, uguali o opposte. Potremmo sfruttare questa proprietà per calcolare i valori di angoli sconosciuti e potremmo usare questa proprietà anche nello svolgimento di espressioni e poi di equazioni goniometriche. È tutto. Ora vi saluto davvero, posso chiudere davvero, non so quanto ho parlato, ma sicuramente troppo. Se ci sono domande, come sempre, chiedete, altrimenti, come sempre, appunto, ci vediamo, spero, alla prossima lezione. Arrivederci.